Ecco, tutto questo diventa per la piccola creatura un'occasione per lasciarsi prendere più intensamente dalla vita stessa di pieno pienamente presso la croce perché in questo momento Papa Francesco adesso sta in pelle a bacia di croce Cristo e si segue il segno della croce la sofferenza del mondo, folie e scandalo diventa il sangue di Cristo ma in un amore e seme di gloria per ciascuna il segno entra nell'acchio e al cielo centrale della Basilica e qui indosserà le vesti sacre tra poco un genio che viene con alcuni addetti caricati porteranno un bacio riacceso nel mio cancello della Basilica come insiste sta ritornando il canto di esposizione Allora, vedete un canto scritto da San Tommaso del Pino ed è uno dei cinque uniti eucaristici commissionari in un canto di esposizione ascoltiamo il segno Allora, vedete un canto di esposizione 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 Allora, vedete un canto di esposizione